ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di alzate laterali e andiamo a vedere tutte le varianti più interessanti e più utili che ci promettono di stimolare al meglio il deltoide e in particolar modo la porzione laterale partiamo ovviamente dalla versione classica che può essere fatta o in piedi o da seduti andiamo a vedere prima tre cose essenziali che ci portiamo poi dietro in tutte le varianti di alzate laterali la prima ricordatevi sempre di salire rispettando il piano scapolare quindi la salita deve essere leggermente avanzata quindi non dobbiamo salire con il gomito in linea con la spalla in questo modo ma la salita è sempre leggermente avanzata rispetto alla spalla seconda cosa ricordatevi di spingere verso fuori non spingete verso l'alto ma pensate ad allontanare verso fuori il manubrio in questo modo riusciremo ad isolare meglio il deltoide e a togliere il lavoro dal trapezio sempre per lo stesso motivo lavoriamo con le spalle basse quindi prima di partire abbassiamo le spalle e da lì iniziamo a lavorare se durante l'esecuzione ci accorgiamo di alzare le spalle come compenso perché magari sopraggiunge la fatica fermiamoci un attimo abbassiamo la spalla e da lì ripartiamo con un'esecuzione corretta le classiche varianti in piedi e da seduti hanno il punto di massima tensione a mano a mano che noi saliamo ok il punto di massima tensione sarà quando il braccio è parallela pavimento quindi capiamo bene che nella prima parte del movimento la tensione sarà davvero minima inizierà a subentrare più tardi però questo non è un problema perché appunto poi andremo a vedere delle varianti che ci permettono di avere tensione nella prima parte del movimento quando il deltoide maggiormente allungato una variante che inserisco spesso per dare varietà ai programmi è anche un'alzata laterale singola da seduto con manubri sempre lavoro quindi un braccio alla volta con l'altra mano mi tengo alla panca per essere bello stabile e quindi prima lavoro con il destro e poi lavoro con il sinistro concludiamo il discorso manubri poi passeremo ai cavi vediamo una variante su panca inclinata in questo modo cosa succederà a differenza di un'alzata laterale in piedi o da seduti avremo una massima tensione nella prima parte del movimento quando il deltoide è maggiormente allungato quindi è davvero un'ottima variante da inserire nei nostri programmi prima abbiamo visto che la tensione aumentava all'avanzare della salita qui invece avremo una tensione più alta all'inizio questa variante la possiamo fare ostesi su panca in questo modo quindi la panca 30 gradi e da qui partiamo a lavorare quindi qui abbiamo la massima tensione e poi a mano a mano che saliamo la tensione diminuirà quindi riusciamo a sfruttare bene questa prima parte a lavorare su panca inclinata come abbiamo appena visto non siete comodi possiamo ovviare in questo modo incliniamo la paga questa volta 45 gradi i piedi sono ben saldi a terra e da qui lavoriamo quindi anche qui vediamo che sfruttiamo bene la prima parte nel movimento quando il deltoide è maggiormente allungato in questo modo saremo più stabili e più comodi perché abbiamo i piedi ben saldi a terra questo concetto appena visto possiamo anche ripeterlo in piedi con manubri quindi come faremo ad andare a ricreare quelle condizioni che abbiamo visto su una panca inclinata ci mettiamo in piedi e questa volta incliniamo il tronco in questo modo quindi vedete che ancora qui permane la tensione nella prima parte del movimento quindi qui avrò già tensione a differenza di un'alzata in piedi in cui qui poca tensione tanta tensione inclinando il tronco invece riuscirò avere una tensione nella prima parte del movimento posso partire anche col manubrio leggermente più avanti e da qui salgo quest'altra versione che si vede molto spesso non ha molto senso perché qui non ci sarà tensione per nulla la tensione inizierà in questo punto ok quindi qui il lavoro sarà completamente a vuoto quindi è una variante che non consiglio di fare prima di proseguire ragazzi vi ricordo che se volete allenarvi anche voi con un programma strutturato con una base logica con delle progressioni che si basa sui vostri livelli di forza potete entrare in via atlet program il nostro percorso di allenamento su web app abbiamo un programma sia per uomo che per donna sia per la palestra che per long gym entrando nel programma avrete l'accesso esclusivo al nostro gruppo chiuso facebook in cui potete fare domande pubblicare i video delle vostre esecuzioni e noi vi correggeremo se volete entrare nel team se volete davvero migliorare trovate il link qui in alto in descrizione ora passiamo i cavi possiamo fare una classica alzata laterale al cavo basso quindi ci posizioniamo in questo modo la mano parte davanti al tronco e da qui spingiamo sempre verso fuori ragazzi ricordatevi sempre quello che abbiamo detto prima spalle basse spingiamo verso fuori e da qui lavoriamo in questa variante dove avremo il punto di massima tensione anche qui iniziamo a avere una tensione buona da questo punto in poi quindi tutta la prima parte la tensione sarà minima come possiamo fare per andare ad aumentare invece la tensione in quella prima parte dove il deltoide è maggiormente allungato semplicemente andiamo ad alzare il cavo quindi lo mettiamo più o meno all'altezza del nostro bacino ci allontaniamo e vedete che da qui c'ho già il cavo che mi sta tirando il deltoide è allungato e qui avrò un'ottima tensione a differenza dalla variante vista prima il cavo basso e da qui quindi spingo verso il fuori quindi la parte più difficile dell'alzata è appunto qui nella prima parte quindi questa sicuramente è un'ottima variante perché enfatizza la tensione nel punto in qui il deltoide allungato piccola chicca piccola variante per l'esecuzione appena vista possiamo lavorare con una cavigliera che ci mettiamo al polso in questo modo andremo a perdere completamente la tensione dalla mano e riusciremo probabilmente a essere ancora più focalizzati sul nostro deltoide quindi non avremo più diciamo l'impegno di stringere la maniglia è veramente un dettaglio ragazzi e quindi non ha davvero molta differenza andare a prediligere sempre a tutti i costi la cavigliera però provate entrambe le varianti e vedete quella con cui vi trovate meglio qui avremo quindi tolto di mezzo tutto il discorso della presa sulla maniglia possiamo concentrarci magari maggiormente sul deltoide ok perfetto ragazzi abbiamo visto una carrellata completa di tutte le varianti più interessanti di alzate laterali che potete inserire e alternare nei vostri programmi andando a lavorare con le varianti classiche ma anche con le varianti in cui enfatizziamo la tensione nella prima parte del movimento quando il deltoide è più allungato quindi alternate manubri e cavi tranquillamente non c'è un esercizio migliore dell'altro non fissatevi c'è questa moda di inserire solo i lavori ai cavi eccetera no ragazzi le alzate laterali con i manubri rimangono sempre davvero un ottimo esercizio che anche io mantengo praticamente tutto l'anno all'interno dei miei programmi quindi ragazzi dai come sempre mettete tutto in pratica e noi ci vediamo al prossimo video